e col destro che gol gol 8 che gol col destro mamma mia che gol primo tempo Chicago Manchester United 0-0 Social Cup ora possiamo seguire il primo tempo alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Secondo tempo Chicago contro Manchester United, 3-1 per il Chicago, ora possiamo seguire tutto il secondo tempo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.